Oggi quando parliamo di prevenzione secondaria del cancro della mammella parliamo di segni precoci perché sennò siamo sconfitti. Allora quando parliamo di segni precoci parliamo di microcalcificazioni che sono queste e poi procediamo con un sistema che viene chiamato Mammotom per fare dei prelievi citologici e quindi fare una diagnosi. Non è un convegno scientifico ma un modo attraverso il quale gli operatori della sanità, i medici, i chirurghi, i senologi, gli ecografisti fanno da tre anni il punto della situazione in vari giorni e in più sessioni. Stabiliscono quali sono le necessità di questa importante fascia della sanità e la senua adunata. Alla fine dei lavori presenteranno le proposte ai direttori generali all'assessore alla sanità per un'inversione di tendenza. Gli screening mammografici sono in realtà in ribasso nel meridione d'Italia e c'è un problema di adesione. Un piccolo miglioramento in Sicilia c'è stato, Palermo è un'eccellenza rispetto alla comunicazione e l'esperienza palermitana sarà così raccontata. All'aspe di Messina invece si effettuano interventi a pazienti che vengono dalla Calabria e dal meridione d'Italia che scelgono di essere operate a Taormina e a Messina. Questa è la terza edizione di Sena adunata e come dice il termine stesso, come fa a capire il logo, è un insieme di professionalità multidisciplinari, parliamo di radiologi, parliamo di oncologi, chirurghi, praticamente tutti gli operatori della sanità ogni anno si riuniscono sotto questo simbolo per fare il punto della situazione degli screening e ora anche delle breast unit e cercare di capire quali sono le criticità e come superarli. Praticamente la Sena adunata ha da tre anni portato avanti un discorso che è un modo, non è un convegno scientifico, è un modo di proporre agli organi istituzionali quali sono le varianti e quali sono gli aspetti che vanno migliorati e quindi si portano avanti delle proposte. Cioè noi abbiamo un po' rivoluzionato il sistema di prima che era top down, che dall'alto arrivavano le direttive verso il basso, ora tutti gli operatori dal basso propongono a chi sta in alto che sarebbero poi l'assessorato, gli organi istituzionali e il direttore generale. La novità di quest'anno è proprio questa, che abbiamo finalmente chiuso il cerchio, mentre prima ce la cantavamo e ce la suonavamo da soli, Ora, l'anno scorso intanto è venuto pure l'assessore regionale alla sanità e la presidente della sesta commissione. Quest'anno abbiamo la presidente della sesta commissione, l'assessore alla sanità e tutti i direttori generali. Alcuni addirittura faranno delle relazioni relativamente allo stato dell'arte e dei programmi di screening. Io mi riferisco in particolare all'ASPE di Palermo e all'ASPE di Messina, che in atto è guidata dal dottore Lapaglia, che è il nostro concittadino.